Per caso hai visto qualcosa di strano da queste parti? Beh, se consideri che dei banditi hanno occupato la fattoria di mia cugina, sì. Cos'hanno fatto? L'hanno fatta andare via. E ora non può più tornare. Si sono accampati e sono armati e pericolosi. Interessante. Dov'è la fattoria? Non lontano, a ovest di qui. Ma io non farei arrabbiare quei banditi. Grazie del consiglio. Prassitea è stata rapita e portata in una fattoria a ovest di qui. I banditi sono stati ingaggiati per catturarla viva. Grazie per averlo scoperto, Alexios. Non sono un idiota, Licaone. Tua sorella ha messo Prassitea in grave pericolo. E tu mi hai fatto strane domande. Vuoi che ponga fine alla sua vita? No. Aspetta a me. Devo ucciderla io. Tu non sei un sicario. Io sì. Se ha commesso le atrocità di cui parlavi, allora credo che tu abbia bisogno dei miei servigi. È una mia responsabilità. Non voglio che soffra. Per questo ti ho chiesto la mandragora. È un antidolorifico. Ma prima andresti alla fattoria a occuparti di quei banditi. Non credo di poterli affrontare da solo. Vado a cercare Prassitea. Grazie, Alexios. Hai detto che la fattoria è a ovest. Ci vediamo lì. Grazie. 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 Grazie.